Pulizia speciale per la spiaggetta di Calarossa ad Ortigia volontari, cittadini impegnati a rimorre rifiuti, legni abbandonati, plastica e anche una bombola del gas dalla sabbia. L'associazione Rifiuti Zero spiega l'operazione. Abbiamo deciso oggi di fare questa giornata ecologica di pulizia della spiaggetta di Calarossa per dare un segnale alla città che le associazioni in gruppi ci sono. Stanno partecipando a questa iniziativa e diciamo che l'idea è venuta perché questo è un posto abbastanza frequentato. Carmelo Bruculera aveva visto che era molto sporco per cui con il contributo di altre persone, Marica Cassone, Fabio Serrentino ed altre ancora, abbiamo deciso di incontrarci qui per effettuare questa pulizia. È un ottimo segnale anche per i nostri ragazzi che ci hanno chiesto addirittura di ripetere la pulizia. Abbiamo trovato di tutto, abbiamo trovato una ventina di sirinche, una bombola con del liquido all'interno, una bombola metallica con del liquido all'interno, tantissima plastica, tantissimi tappi e tantissima plastica buttata praticamente qui nella spiaggia. Abbiamo comunque maturato l'idea di pulire questa spiaggia affinché viene dato questo segnale da parte del nostro gruppo, da parte del movimento centrale, da parte di altri amici o delle scuole che hanno contribuito a dare la loro prestazione affinché questa spiaggia ritorni ad essere pulita e ci sia anche quel decoro che queste spiagge limitrofe in Ortigia meritano perché in estate sono anche frequentate da terze persone, da turisti ed è giusto che l'usufrutto di queste spiagge comuni sia comunque abbastanza fruibile.